Ciao ragazzi, bentrovati, come state? Ciao ADK a tutti. Vi voglio raccontare una cosa. Stavo passeggiando quando sono entrato in un vicoletto, perché a me piace entrare in vicoletti, infilarmi, magari trovi quei negozietti particolari, artigianali, oppure di cose strane, a me piace. Va bene, a parte questo ho notato a distanza una ragazzetta che stava suonando la chitarra. Allora, curioso, chi mi conosce sa benissimo che a me piace la musica, quindi mi sono avvicinato piano piano e in maniera così spontanea, lei mi ha detto mettiti seduto, se vuoi ti suono qualche canzone. A me ha fatto molto piacere, lei aveva appena finito di mangiare con la sua amica, c'era al tavolo piano dei birre, cibo talandese, un profumo di peperoncino che me lacrimavano l'occhi su una distanza, regà. Comunque, a parte questo, scherzando e ridendo, è partita con una musichetta. Ma, a parte questo, quello che mi ha colpito è la spontaneità. Quella spontaneità che l'Atelandia, diciamo, ha caratteristica, a me ha rubato l'anima tanti anni fa proprio per questo. Quindi mi sono trovato decisamente a mio agio senza nessun problema. Quindi vi faccio vedere quello che è accaduto. La ragazza si chiama Belle e vive qui in Battaglia, ha un suo bar, gestisce un suo bar per le breakfast alla mattina e ha una partnership per uno shop. Beh, di più, insomma, suona la chitarra. Vi faccio vedere. Quindi mi tolgo di mezzo col faccione e parto con il video. Ok, questo è una città che spiego la gitarra. Il tuo nome è? Il mio nome è Belle. Belle? Ok, buono di conoscerti, Belle. Sì, sono una gitarra. Puoi spiegare, sì? Oh, ragazzi, seguite il canale, è gratuito e lasciate i vostri commenti e i vostri like. Mr. Chanel, life is life! Allora, non interrompo un secondo, mi schiaccia da qui sopra, è una canzone d'amore. Due persone che continuano ad essere sempre innamorate. che vado, dopo aver giusti l'aventura concentrate per i nostri amici. Al tavolino c'era la sua amica, che stava mangiando, insomma, la prima del suo massimo mi torno. L'aroma in strada quindi ogni tanto passa bancana, è un modo vivo, un amico che saura, quindi è decisamente tutto spontaneo al cento per cento. Vedete come suona bene la chitarra, è una bravissima suonatrice, è una chitarra, insomma, grittiotta, non un ultimo grido, è un'acustica, ma la sua intenzione è quella di acquistare successivamente una buona chitarra elettrica pian pianino. Ok, dopo aver vi Mittaglia? Come va, questo esame cambia i dimostri, al comfortari che in Sì, c'è l'esercito, c'è l'esercito. Sì, c'è l'esercito, c'è l'esercito. Sì, c'è l'esercito, c'è l'esercito, c'è l'esercito.